Come è la città di fare la giusta via? I giusti politici o i giusti sindaci. Mi piacerebbe l'ordine più che altro, la correttezza della città verso tutta la popolazione. Ascolta, una domanda per te. Questo si potrebbe fare anche senza partiti? Le idee politiche, i partiti sono un po' menzionati da idee politiche. Penso che le idee politiche è giusto che ci siano perché ognuno ha la sua testa, però sicuramente io sarei per una maniera democratica di ascoltare un po' tutti, perché è giusto che sia così, però che ognuno porta avanti la sua idea politica. Io credo che la politica per questa cosa qua non c'entra, perché secondo me nella propria città io difendo qualcosa, tu difendi qualcosa, quell'altro vede qualcosa, dove vive, non perché è di destra, di sinistra, di centra, perché è bianco, rossa, perché porta avanti un servizio pulito, coerente della propria città. Io credo che la politica qui non debba centrare, è il mio parere, non ne vedo la necessità. Sai che te lo condivido? Grazie. No, niente. Ok. Perché questa è un po' anche l'idea, no? Sì, ma deve essere così, no? Che non mi interessa nessuno. No, no, Paolo, è vero, è vero. Dai, forte. Ma sai cosa mi fa impressione?